Il governo ha delegato a 40 persone di loro fiducia la riforma costituzionale, noi chiediamo semplicemente il rispetto di regole scritte nella nostra costituzione, chiediamo che la procedura deve essere eseguita come sancito nell'articolo 138 che prevede che la Camera del Popolo sia il Parlamento in due delibere a distanza di non più di tre mesi debba riformare la costituzione e consentire poi ai cittadini di poter chiedere tramite petizione un referendum popolare sul disegno di legge costituzionale come è previsto nell'articolo 138, invece loro cosa fanno dando a 40 persone di loro fiducia il compito di rifare la nostra carta fondamentale, noi chiediamo che se le regole sono scritte vanno rispettate, poiché siamo una Repubblica parlamentare costituzionale così deve essere, allora difendiamo l'articolo 138 e venite a Gazzemi, Santa Maria e Carità, firmate questa petizione e blocchiamo questo scempio alla nostra Costituzione.